Unione Italiana Sport per tutti gli associazioni di promozione sociale. Il Presidente Tiziano Pesce. Buongiorno, buongiorno signor Presidente, senatrici, senatori. Grazie innanzitutto per l'invito e per l'opportunità oggi concessa alla UISP, ente di promozione sportiva, associazioni di promozione sociale, rete associativa nazionale nel potersi esprimere nell'ambito dell'esame dell'atto di governo 49. In considerazione del tempo a disposizione abbiamo preparato una memoria abbastanza articolata, che pertanto riuscirò a disporre solo parzialmente, seguendola come traccia, almeno per i punti principali, sui decreti 36 e 39, memoria che depositeremo in formato digitale agli atti delle commissioni appena terminata l'audizione. Preliminarmente esprimiamo apprezzamento per il lavoro del Governo che ha condotto allo schema di questo ulteriore decreto correttivo in esame, così come per il lavoro delle commissioni parlamentari competenti di Senato e Camera, che siamo certi anche, dopo quello che è stato il positivo iter dell'indagine conoscitiva avviata alla Camera lo scorso 31 gennaio, contribuiranno a migliorare ulteriormente i testi normativi, soprattutto per quanto riguarda la riforma del lavoro nelle associazioni e nelle società sportive contenute nel combinato disposto dei decreti 36 e 39. Un percorso, come abbiamo sottolineato in più occasioni, senza dubbio lungo, tortuoso, che è stato avviato con la legge delego 86 del 2019, la cui finalità, è bene ricordarlo, era quella di delegare all'esecutivo il compito di intervenire per, da una parte, un rinnovamento strutturale del modello giuslavoristico, più in generale anche per una semplificazione normativa, tenendo sempre al centro dell'attenzione il principio fondamentale della specificità dello sport. Un percorso che abbiamo cercato di seguire sempre attivamente, con l'obiettivo di migliorare i testi normativi, non perdendo mai di vista l'obiettivo generale di arrivare a un vero e proprio riconoscimento del valore sociale dello sport, nel rapporto con i governi che si sono succeduti, le forze parlamentari, le direzioni ministeriali, il Dipartimento per lo Sport, Sport e Salute, sicuramente il CONI, il CIP, le rappresentanze del sistema sportivo, il forum del terzo settore, essendo associazioni di promozione sociale, e non da ultimo i sindacati che, riteniamo, debbano essere coinvolti maggiormente nel prossimo percorso. Si tratta senza dubbio di una riforma importante, un cambiamento epocale, lo abbiamo in tanti definito così, c'era ovviamente l'esigenza di dare piena legittimità, giuste tutele alle centinaia di migliaia di lavoratori, lavoratrici sportivi, che devono essere oggi accompagnati insieme alle associazioni, alle società sportive, pensiamo soprattutto alle più piccole che si reggono sul volontariato, senza tralasciare appunto il fondamentale aspetto delle semplificazioni. Apprezziamo quindi molto gli sforzi profusi in questi mesi dal Ministro per lo Sport e i giovani Abodi, dalla Ministro del Lavoro delle Politiche Sociali Calderone, che hanno lavorato di concerto con i propri dipartimenti, con le proprie direzioni, ad ulteriori integrazioni e miglioramenti della riforma. Possiamo, a nostro avviso, affermare che il movimento sportivo di base è stato ascoltato con attenzione, che la maggior parte delle considerazioni, delle richieste formulate, almeno dal WISP, tra primo e secondo decreto correttivo, siano state accolte, per questo ringraziamo il legislatore. Non possiamo, ecco, però non sottolineare come la ricerca della sostenibilità economica, dei costi del lavoro sportivo, all'interno di una filiera, come sappiamo, tremendamente colpita dalla pandemia, delle ulteriori emergenze e crisi, energetica non solo, che si sono addizionate e non possa essere esclusivamente perseguita attraverso l'applicazione di aliquote previdenziali e relative riduzioni, che nei fatti non garantiscono in prospettiva quelle che invece dovrebbero essere eque tutele pensionistiche. Ringraziamo poi anche la viceministra del lavoro, Maria Teresa Bellucci, per tutto il lavoro di armonizzazione tra le legislazioni del sistema sportivo e del terzo settore. Auspichiamo che prosegua e si rafforzi l'attenzione di respiro interministeriale sui contratti nazionali, compresa la fattispecie delle collaborazioni coordinate e continuative, alla determinazione, anche io sottolineo questo aspetto, delle mansioni dei lavoratori rientranti sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affiglianti, tra quelle appunto necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva. Riteniamo che la loro validazione debba essere prevista presso l'autorità di governo, il Dipartimento per lo Sport, per evitare applicazioni errate, delle norme, distorsioni, storture, definiamole così, che iniziano già in questi giorni a comparire e che invece vanno da subito contrastate. Di contro si creerebbero fenomeni, tra virgolette, di concorrenza sleale, soprattutto fra enti di promozione sportiva, oltre ad evidenti non sostenibili differenze di profili e assoggettamenti semplicemente cambiando l'organismo nazionale di affiliazione. Sicuramente è importante, come ha anticipato il Ministro Abodi, il percorso del rilascio progressivo, la moratoria e quindi l'accompagnamento delle associazioni e delle persone che si occuperanno degli aspetti gestionali e amministrativi nei prossimi mesi, ma riteniamo che ci sia bisogno di idonei interventi di sostegno economico. C'è una necessità di prevedere coerenti misure che attutiscano il carico economico relativo alla previdenza in capo ai lavoratori e alle lavoratrici, alle associazioni e alle società sportive, nonché agli stessi organismi affiglianti. Su questo punto si è parlato molto nei mesi scorsi di misure che sarebbero state previste da uno specifico decreto addirittura per abbattere totalmente i costi dell'impatto della contribuzione, misure che oggi parrebbero però non essere più presenti nell'agenda dell'esecutivo. Su questo punto manifestiamo molta preoccupazione. Velocemente alcune proposte tecniche di emendamenti all'ulteriore correttivo. c'è il tema sicuramente della modifica degli statuti, quindi proponiamo che le modifiche degli statuti possano essere esentate dall'imposta di registro, possono essere quindi le modifiche adottate con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria se hanno appunto come in questo caso scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative, come del resto accade già per gli enti del terzo settore. C'è poi un tema rilevante che il correttivo introduce bene sulla destinazione urbanistica e quindi sul fatto che le sedi delle associazioni possano essere utilizzate indipendentemente dalla destinazione urbanistica. C'è un tema tecnico legato alle attività produttive così come recita il correttivo. Poi ci sono altre proposte di emendamento sulle attività diverse per non limitare le attività diverse delle associazioni sportive che fossero anche enti del terzo settore. Ci sono alcune richieste di dichiarimento rispetto per esempio ai rimborsi ai direttori di gara in quanto il correttivo prevede che ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte ma se parliamo di rimborsi forfettari sarebbero esclusi tutti gli enti del terzo settore. Anche noi sottolineiamo l'aspetto delle ore e quindi del conteggio delle ore della soglia delle ore settimanali, delle co-co-co ragionando su base annuale. Segnaliamo, vado veloce proprio per titoli perché la memoria è molto corposa, delle proposte di emendamento sulle collaborazioni per definire meglio le collaborazioni autonome occasionali per permettere che persone che ricoprano cariche elettive ovviamente in modo gratuito possano svolgere però anche attività retribuite e poi c'è l'aspetto sicuramente importante sul chiarire collegato al registro tutto il tema dell'attività agonistica, didattica, formativa e fisica motoria. Sulla questione dell'INAIL noi facciamo questa sottolineatura. Secondo noi mantenendo anche inalterato il decreto correttivo sarebbe opportuno lavorare sul decreto attuativo, su quello che sarà il decreto attuativo della disciplina INAIL relativamente agli seguenti aspetti. Una differenziazione del premio in ragione del rischio della specifica disciplina, eventualmente raggruppando le attività codificate nel registro nazionale tra macrocategorie di rischio, basso, medio o alto. Definire le procedure di comunicazione INAIL attraverso RAS, soprattutto se resta in vigore l'esenzione della comunicazione preventiva per i compensi sotto i 5.000 euro. Aggiungiamo questa considerazione, che crediamo molto importante, e segnaliamo che il tener conto anche dei rischi già coperti con l'assicurazione che viene attivata all'atto del tesseramento, mirando in questo modo a contenere l'aliquota applicabile, applicabile come recita il correttivo, e trovi criticità poi nelle garanzie assicurative presenti nelle singole polizze assicurative stipulate in nome per conto dei propri tesserati dagli organismi sportivi, che pur rispettando le prescrizioni del DPCM sulle coperture assicurative obbligatorie, presentano garanzie molto differenti da organismo a organismo. Pensiamo che le garanzie prestate sugli infortuni a volte in alcune discipline passano anche dal 3 al 10% dell'invalidità permanente. Proponiamo poi un emendamento per chiarire meglio il percorso l'iter di richiesta e di ottenimento della personalità giuridica. Segnaliamo nel documento anche una richiesta di chiarimento sui titolari di partita IVA e segnaliamo nuovamente, come avevamo fatto in sede di audizione alle commissioni della Camera, il tema che già colleghi hanno segnalato oggi sui controlli sanitari dei lavoratori sportivi, tutto il tema della sicurezza negli ambienti di lavoro, il rapporto con la disciplina della medicina sportiva e cogliamo con molto favore quanto ha già anticipato il Ministro Abodi per quanto riguarda il registro delle attività sportive e delle tantistiche, quindi il superamento anche di quello che è oggi il percorso di riconoscimento delle discipline sportive esclusivamente in Capo Alconi. Poi chiudiamo con una riflessione sull'IVA, apparentemente un po' fuori dal perimetro di questo decreto, ma crediamo che sia molto importante. Il decreto legge del 10 marzo scorso, che è stato convertito in legge, che è stato pubblicato pochi giorni fa in Gazzetta Ufficiale, rinvia al 1 luglio 2024 l'entrata in vigore sostanzialmente del superamento dell'esenzione IVA e quindi della trasformazione in esclusione, crediamo che il mondo sportivo da questa nuova disciplina ne possa essere pesantemente penalizzato, soprattutto per quanto riguarda le società sportive e le tantistiche, quindi tutto il tema delle attività produttive e anche inoltre occorre tenere presenti a nostro avviso i pronunciamenti anche dell'antitrust proprio di questi ultimi giorni in tema di sport, attività economiche, nozioni di impresa che sono appunto pubblicati in questi giorni. Nel documento, e chiudo davvero, ci sono riportate alcune segnalazioni sull'articolato del decreto 36 per quanto riguarda soprattutto alcune definizioni dove già il primo decreto aveva diciamo in più articoli non segnalato tra gli organismi sportivi al pari delle federazioni e delle discipline sportive associate indicato gli enti di promozione sportiva. Grazie ancora dell'opportunità.